Si terrà sabato 15 dicembre alle ore 17.30 il Gran Gala dell'Atletica Agropoli. L'appuntamento, giunto alla sua nona edizione, come sempre premere gli atleti per la stagione 2018 e presenterà il programma del prossimo anno dove ancora una volta la nostra società con la città di Agropoli avrà un ruolo da protagonista nel calendario nazionale della FIDAL. Anche nel 2019, infatti, la pista Pietro Mennea del Guariglia ospiterà un evento nazionale top con una settimana di differita RAI. Location, anche per questa stagione, è l'auditorium del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli. Presentano alla serata Claudio Russo, speaker dei campionati italiani, e Raffaella Giaccio di Cilento Channel. L'ospite d'onore è Gabriella Dorio, campionessa olimpica di 1500 metri piena a Los Angeles 1984 e primatista italiana sia outdoor che indoor della specialità e Antonio Andreozzi, vice direttore tecnico della Nazionale di Atletica. Presenti, oltre ai componenti societari dell'Atletica Agropoli, anche il sindaco della nostra città, Adamo Coppola, il consigliere comunale con delega dello sport Giuseppe Cammarota e l'assessore al bilancio Antonio Mutali Passi. Quest'anno, inoltre, il lino di Mameli sarà accantato ad Alessio Del Verme, talento della città di Agropoli e semifinalista a Saremo Giovani 2018. L'evento, ovviamente, sarà anche l'occasione migliore per salutare e ringraziare i nostri sponsor che anche quest'anno hanno contribuito allo svolgisi della nostra attività sportiva. Istituto Diagnostico Santa Chiara, 4M, Case Design, Meditec, Studio Dentistico Barretta, BCC Agropoli e Capaccio e GBL Costruzioni.